Vi ringrazio per aver accettato l'invito a questo secondo momento del triduo di gratitudine, di ringraziamento al Signore innanzitutto per la presenza delle nostre suore. Signore innanzitutto per la presenza delle nostre suore. Signore innanzitutto per la presenza delle nostre suore. Andiamo a studiare una rosa per capire il suo mistero e conservare il profumo di eternità dei suoi petali. Poco alla volta con la preghiera ci avvicineremo alla verità che dona luce alle nostre menti. Nel nostro cuore scorre la dolcezza di un amore che dona pieto e pace in questa vita ed un'eternità di gloria nell'altra. Santa Maria, Madre rei, Santa Maria, Madre rei, Mora pra nascita, Madre rei, Santa Maria, Madre rei, Grazie a tutti.